Oggi andremo a recensire un altro Videogioco Arcade Quest'oggi Jurassic Park World Infatti questo videogioco Era uscito nel 1997 Distribuito dalla Sega E' stato poi distribuito Nelle versioni successive Oltre a quell'Arcade anche per la Sega Genesis E per Playstation Questo videogioco non cambia molto Da quello che abbiamo recensito un anno fa Che era sempre Jurassic Park World Ma questo videogioco è appunto Sempre sparatutto Infatti è diviso in diversi livelli Questo videogioco è stato venduto Per più di 2 miliardi di copie In tutto il mondo Ha avuto un grande successo Nel 1998-99 Come miglior gioco sparatutto Light Gun E poi fu rilasciata A una nuova versione nel 2001 Ora senza perdere tempo Andiamo a giocare Via con la sigla Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Help! No! 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 No!